Ciao sono Clapp e benvenuti in questo nuovo video, oh mio dio, ho un'allergia che mi sta veramente devastando Comunque, oggi siamo in Aram, perchè siamo in Aram? Perchè avevo delle cose da dirvi, ho dei piccoli aggiornamenti diciamo riguardanti al canale Perciò ho detto perchè no, perchè non fare un video in Aram così per cambiare magari per una volta Invece che una Ranked oppure una Landa, giochiamo così un Aram Quindi, come dicevo ho delle cose da dirvi, innanzitutto stiamo giocando, oh dio Stiamo giocando Xerath, c'è uscito Xerath, in realtà l'ho traddato con questo, sono ritardato di un Kastadin Che però mi ha detto, ok ti do Xerath, io avevo Mordekaiser, lui si vende Mordekaiser Tipo I want to play Mordekaiser, lui si scrive E poi invece che, invece che terresti Mordekaiser, devi usare LOL, subito, appena glielo passo, usare LOL E io sono rimasto malissimo proprio Vabbè, non così ha, ho delle cose da dirvi, come stavo dicendo adesso Ovvero, la prima cosa è che dovete mettere like a mia pagina Facebook, perché altrimenti io vi cito Perché è un ordine, questo non è che voi avete scelta No, peraltro perché posso sempre cose riguardanti il mio canale Quindi se volete rimanere aggiornati, dovete mettere like alla pagina Prima cosa Seconda cosa, mi è stato richiesto da un utente, mi è stato chiesto perché non caricassi full gameplay Di LOL, quindi anche di intere dall'inizio alla fine La risposta è semplice, io se andate a vedere il mio canale Video leggermente più vecchi, se scendete proprio di qualche video Saranno una decina, quindicina di video massimo Doverete i full gameplay Il fatto è che, quando hai pochi iscritti, i full gameplay non rendono tanto Perché la gente non li guarda completamente Non li guarderà mai completamente Al massimo si guarda due o tre minuti E poi Lascia il video, lo abbandona proprio Perciò avevo pensato Ma, se invece di caricare full gameplay Inizio a caricare, non so, qualche video Di quelli Non so, fatti come si vedono adesso Molta gente non italiana Sta caricando video del genere Sono un po' morto, non è vero Ok Eh, molta gente non italiana sta caricando video del genere Ehm, quei video, sapete no, quelli Boom, che track Ehm, più corti, tagliati, fatti, editati meglio O cose del genere Ho provato effettivamente con il primo video che è stato Ranked Madlife Moments Episodio 1 Ehm, in effetti è riscosso abbastanza successo Anzi, ho ricevuto molti feedback Da quelli che l'hanno visto Infatti adesso è il video correntemente Il video con più visualizzazioni del mio canale Ehm Diciamo ho ricevuto molti feedback positivi Da voi Ehm Mi avete detto che comunque sia Mi è piaciuto Il video di quel genere Quindi mi invito anche ad andarlo a vedere Perché In teoria se non mi sbaglio Dovrebbe essere anche tra i video consigliati Cioè vi dovrebbe essere uscita la 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 notifica In questo video All'inizio Verso 10 secondi di video Ehm Per cliccare appunto Andare a vedere quel video Ehm Quindi mi consiglio di andarlo a vedere Comunque sia Dicevo La gente quindi non guarda i full gameplay Quando Specialmente quando hai pochi iscritti Non li guarda completamente O forse sia stata stata una cosa mia Cioè Mia specifica Che magari nessuno Nessuno Quasi nessuno Si è messo lì a guardare I full gameplay Pici ho cominciato a editarli Così ho visto In effetti Prendevo 3 o 4 iscritti a video Appena caricato Comunque sia Dentro poche ore Pici non lo so ragazzi Scrivetemi nei commenti Se volete Vedere i full gameplay Se volete vedere i full gameplay Oppure se volete semplicemente Vedere me Che continuo a fare questi video Così tagliati Questo video che stai vedendo Ovviamente non sarà tagliato Con questa aram Perché già le aram durano Abbastanza poco Poi se le taglio anche Non ci rimane nulla Comunque sia Sto un po' mezzo laggando Non so neanche perché Ehm Sto avendo un video Abbastanza serio questo Comunque un'altra cosa Vi volevo invitare A andare a vedere il video Che ho fatto con Slakti Sul suo canale Perché Per chi non l'avesse visto Ehm Il video che scelto domenica Andatelo a vedere Se non l'avete visto Sarebbe Ok una ranked Il canale Deslakti Ehm Un'altra cosa L'ultima cosa Che volevo dirvi E anche Ehm Se volete Ehm Consigliarmi qualche champion Da giocare in mid Perché appunto Che non sia magari Sempre lo stesso champion Se magari sempre Ennio Attenzione Uh Ehm Ennio Chogat Perché sono i due champion In mid Che spammo di più Ehm Se volete vedere altri champion In mid Ditemelo Nei commenti sempre E vedrò Darci un video Vabbè Adesso Grudiamoci un po' Questa partita Perché ci stanno Un attimo Questo tappetino di merda Perché Schifo al cazzo Boom Preco Attack Il demonio Boom Cazzo Il mio flash Flash da Davvero Plat player Lo sento proprio dentro Quando flash Quando flash In questi modi Potete capirlo Che Quindi l'Udenseco non c'è Ah si che c'è l'Udenseco E non lo mettono neanche Tra i consigliati Ma siete matti voi Siete malati proprio Metteteli Udenseco Come consigliati Per un AP Perché siete impazziti Abbiamo questo Zed Contro che Ancora non ha preso Neanche una kill E' malapena Un assist Boom Sono di verità magi Ragazzi Boom Sto un po' laggando Mi dispiace perché Ho appena acceso il computer Solitamente quando accendo Il computer All'inizio inizio Lagga un po' Però avendo pochissimo tempo Per gestare questo video Purtroppo Lo dovete vedere così Ma Solitamente Giusto magari Quando Ho abbastanza tempo Perciò No problem Sono di questa Asce Muori Mmm Poco la ultima Poco questa asce Deve morire Questa asce Deve morire Cazzo Questa asce Deve morire Qua Mmm 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 Diamo che abbiamo Quattro AP in questo game Da Nel nostro team Basterebbe che si Bulldassero un po' Di MR E noi abbiamo finito Di vivere Però Diciamo che con questo Poco tempo Che c'è Nell'ARAM Arrivare a Bulldassi MR Difficile Tanto che non Pusceremo mai le torri Troppo Che Non ho mano Sono morti Non è vero Ha un discuto di calio Eeeh 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 Queste kill Ok Andiamoci anche a questa vita Lagga anche un po' L'audio Lo sento Però quando sono in pc Così Purtroppo avendo Molto poco tempo Adesso per registrare Mi dispiace Tanto per dirvi cose importanti Magari per non fare un video Dove c'è tanto la mia faccia Che può essere pallosa E poi Quanto Sono brutto Diciamo No please Oh mio dio I damage Sono veri qui Signori 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 Nuovo il Ludenseco Ci prendiamo il Ludenseco Subito E' morto Il sposo Non è morto Attenzione Uh Colpo di scena Di Tenzhao Si avventa Su Zed Apparentemente il game Sta mettendo Molto bene per noi E io ho dimenticato Di comprare i boots Ah no Il boots Ce l'ho Tra nulla Andiamo in lane Andiamo in lane Main area Attenzione Main area Lag Anche Sare il lag Sale il ping A caso Non ci possono domani Mamma mia Ho rischiato davvero Di non prenderlo Sessore Draven Si avventa con la palla di neve Lag assurdo Uh Rekt moment Vieni qua Oh No cazzo Ho provato a ucciderlo Sarei morto uguale Ho troppo poca vita Andiamoci Boots E Null'altro Credo Ho il ping un po' Che Instabile Diciamo quindi Bah Ehm Altre cose Che posso dire Non so Magari farò anche un video Siete perché Ultimamente vedo molti Molti youtuber Che fanno Video su Come salire In solo queue Quali sono i champion Da usare in solo queue Come ad esempio L'ha fatto slack Come ha fatto slackty Oppure terenas Ha fatto Come ribaltare Una partita Video del genere No Fatemi sapere per caso Se magari Volete Vedere un video Del genere Magari Avevo pensato Io ad esempio A come vincere Una partita Nel senso Come Quali sono le cose Da fare Come Quale situazione Fare una cosa E meglio fare In varie situazioni Secondo me E quanto è importante Magari il map awareness Questa roba qui Se sapete Una cosa del genere Se volete vedere Un video del genere Fatemelo sapere E Prima o poi Dove lo faccio avere Vediamo se Riesciamo a prenderci Questa torre Magari Hello Motherfucka Hello Motherfucka Per due Attenzione Che sniper Ragazzi Qui abbiamo Un vero sniper Sono Assolutamente Mainzerat È morto uguale Incredibile Mori Mori Yes Non posso fare Nuno Non ho spell Qui Boom Stun Mana Mamma mia Quanto li stiamo orando Mamma mia Quanto li stiamo orando Ok no Ok non puoi uccidermi No Never No Un'attacca Yes Bitch Cesar Parte il ceserino Adesso non ho E bu Snowball Snowball Del Del demonio Allora Prendiamoci Prendiamoci Cazzo Ne so Non so Neanche cosa Che più worth Forse mi faccio la maschera Dai Andiamo Un doran Come c'è la maschera Arrivo con i gold passivi Stiamo in base Se Quando spawn Ancora non ce l'ho E Quella qui Bella maschera Un po' di vita Un po' di AP Gratis Voglio vedere Un attimo Stavo registrando Ok Stavo anche registrando Quindi Non devo rifare il video Perfetto Oltre 20 secondi Con un po' di Freeburst Mamma mia I danni Ragazzi Che danni Anni Get fucking Wrecked Mate Get wrecked Dude Aspettate Arriva ProSniper Cazzo Non li vedo ProSniper Mamma mia Ragazzi Che ProSniper L'altro Non è morto E via Dai Concludiamo questo game Così almeno La torre La torre Aspetta 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 Lo vedi Mamma mia Che Sniper Ok Adesso la mia Mio mira È scesa Quasi sotto lo zero È incredibile Metà vita Riesco a fare Con Pochissimi item The predict The predict Ragazzi The predict Predic Come cazzo Volete chiamarlo Incredibile Usa Zed usa L'ombra Proprio Sopra La mia W Doppia Se la prende dritto dritto Nell'ano E boom Cazzo Boom Rect Mori Ok Non avevo mana Quindi Devo comunque Suscitarmi Anche se avevo Il clarity Però Mancava poco Per averlo Ancora non l'avevo Vediamoci Il rapido Vediamo se Ricciamo Non ho soltanto Una torre Quindi ormai Avranno Tra perso Erano stra perso Questa partita Abbiamo arati Letteralmente Ne hanno un cazzo Da fare ormai Mamma mia Anche i danni Di Malzar Non perde neanche vita Non perde vita Con lo scudo di Gale Non perde proprio vita Zero vita GG Quadra kill Attenzione La pentakill Arriva la penta Arriva la penta Arriva la penta 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 GG Pentakill Per Malzar E ggwp Ragazzi Finisce Anche qui La partita Vi ringrazio Per avermi seguito Fate quello che vi ho chiesto Commentate appunto Quello che vi ho chiesto Sotto il video Fatemi sapere Quindi se volete Il video Sul gameplay Oppure Se volete Ancora vedere Video Tagliati E nulla Noi ragazzi Ci vediamo prestissimo In un altro video Vi saluto E vi ringrazio